Siamo per dare il benvenuto a Paolo Restante e Alessia Giallombardo. Benvenuti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto, prima notizia, voi siete un duo da Piano Bar. Sì. Classico Piano Bar. Classico Piano Bar. Da live. Da live, da ristorante, da feste di piazza, da eventi privati, allediamo matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni. Ecco, e come vi siete conosciuti? Come mai questo duo? Per caso proprio. Molto per caso. Molto per caso. Spieghi tu, spiego io. Spiegate, va. Allora, io cercavo un lettore di basi musicali per cominciare ad andare in giro da sola a fare anche karaoke, queste cose qui. Ti eri rassegnata a caricare le casse in macchina. Esatto. Il mister, la session break. Esattamente. Se mai quando. Insomma, cerco su internet e mi imbatto nel suo annuncio. Ma tu pensa se uno mettesse dei tag con scritto lettori, audio per karaoke e musica live, esce fuori in essere umano, che è lui. Esatto. Ma gli serviva uno per portare le casse, che hai capito? Eh, appunto. Serviva quello. Insomma, ci incontriamo, io compro questo lettore e da lì ci scambiamo i numeri di telefono. Cioè, lui ti venne un lettore? Lui mi vende un lettore. Che lettore? Di basi? Un lettore di basi. Che lettore era? Loki? Che non è quello che si prende se hai la mal di testa? Quasi, siamo quasi lì, però non era questo. Non era Loki. Quasi, però. Però leggeva le basi. Eh, ci siamo conosciuti così. Da lì non ci siamo più separati, è cominciata la collaborazione, a lui serviva una voce femminile per una serata e da lì abbiamo cominciato il duo. Eh. Che dura insomma da qualche anno. Senti, vabbè, quando uno fa questo tipo di lavoro vuol dire che ama la musica a 360 gradi, ama cantare un po' di tutto, ma c'è qualcosa che magari preferite di più fare rispetto ad altro? Guarda, io ho il classico piano bar proprio. Io se mi dai una Mina, una Mia Martini, proprio che posso cantare. Esatto, bravissimo. A squarciacolare. Dammi uno Stevie Wonder, una Tina Turner. Esatto, la donna più felice del mondo, ma richiedono molto i classici tipo il Sarà perché ti amo, il tanti auguri di Raffaella Carrà, il gelato al cioccolato di Pupo che balla grandissimo. Eh, come no. Saspino. Il gelato al cioccolato, perca miseria. Però io invece vengo dalla balera. Quindi tu lisci ogni tanto? Io lisci ogni tanto. Io lisci. Lisciavo. Lisciavi. Lisciavo, però diciamo ci siamo incontrati. Beh, però fa comodo, eh. Fa comodo e liscio. Sì, sì, sì. Quando ti vuoi andare al bagno, che devi andare in bagno, si balla e tu te ne vai. Sì. Vero? Sì. Però fa scuola, eh. Fa scuola. Ballo, tira sempre. C'è qualcuno che ti fa fare un lento. Senti, allora, in questo momento abbiamo un po' capito. Tra poco sentiremo, già abbiamo ascoltato cosa, però, insomma, sentiremo proprio un live vostro. Chi canta quindi di più? Tu. Eh, ma guarda, ci equilibriamo, equilibriamo molto. Nel senso, ci richiedono anche tanta musica da ballo, eh, durante le serate, perché la gente si vuole scatenare. E quindi lì forse è afferrato un po' più lui. La parte da piano bar, sì, diciamo che un pochino più io, eh? Sì, poi facciamo, diciamo, una cosa a due, quindi anche se... Eh. Ce la facciamo per cavoli no. Ce le arrangiamo come vogliamo noi, le canzoni. Ce le arrangiamo. Esatto. Ho detto bene. Allora, vi volevo fare questa domanda. Già avete fatto la canzone di Gabbani? Yes. Uh, lui. Ah sì? Per forza. Per forza. Come fai? È un tormentone già. Ma non mi dire che hai fatto anche quella di... Non mi mette in difficoltà. Eh, andiamo a... Chi è? Andiamo a... Andiamo a comandare, no? Uh, no, quella mettiamo l'MP3, guarda. Sì, guarda. A di pazienza. Ci rifiutiamo. Mi rifiuto. Bellissima, però. No, ballano tutti, si alzano dai tavoli, cioè dalle sedie per andare sui tavoli. Pazzesco, eh? Pazzesca. Sì. Non so se è più pazzesca. Quella di... Andiamo a comandare o gioca gioia di cerchetto? Quella non si mette più però, sai? Anche se qualcuno... I remember. Però, c'è. Ogni tanto dici, sì. Sì, ancora qualcuno... Comunque, non c'è niente di meglio che assistere ad una serata. Allora, oppure contattare direttamente loro due, Alessia, Gianlombardo e Paolo, restanti. Eh sì. Diamo i contatti. Sì. Che sono pubblicati qua sul video che state vedendo, state vedendo anche le foto, le immagini, eccetera. Adesso sentiremo una canzone, insomma, tratta dal duo, Nati in Note. Diamo per chiudere i contatti dove la gente, appunto, vi può chiamare e magari chiedere di avervi, ecco, diciamo. Locali, eventi, eccetera. Non aspettiamo altro. Sì, speriamo. Prego, prego. Allora, tanto abbiamo un'email che è natinnotechiocciolalibero.it. Sì. E poi i numeri di telefono. I numeri di telefono che sono il mio è il 329-42-27-635. Ripetiamolo, ripetiamo. 329-42-27-635 e quello... E il mio che è 349-57-69-376. Ripetiamolo. 349-57-69-376. Allora, questi due numeri che vi abbiamo dato è per avere un duo, appunto, live music da Piano Bar. Sono Alessia Giallombardo e Paolo Restante. Vi ripeto di nuovi due numeri, 329-42-27-635 oppure 349-57-69-376. Posso aggiungere la nostra pagina Facebook dei Nati In Note. Ci trovate su Facebook come Nati In Note. Nati In Note, eccoli qua. Adesso ascoltiamo la loro canzone live. È una canzone straordinaria di, insomma, degli artisti straordinari. E allora, è chiaro che siamo qui per ascoltare tutto questo. Grazie a Alessia Giallombardo e a Paolo Restante. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. 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 Con un brivido felino, ora che ti dai, ti sento travolgente, è vero come sei All'impulso di fermarti, ma tanto non potrei se ti muovi, ti muovi come tu sei E ti sento e mi vuoi Con un brivido felino, io potrei morire da adesso Per come mi prendi e ti dai, e ti sento che mi vuoi E ti sento che mi vuoi Per come mi prendi e ti sento che mi vuoi Per come mi prendi e ti sento che mi vuoi